Musica Anche io, anche io, anche io facevo così mentre c'era il countdown Anch'io, infatti ho detto sballarsi col countdown, perfetto Pugliamo col countdown Noi ci accontentiamo di poco ma proprio quasi niente No, effettivamente Siamo troppo sincronizzati, Giulia questo è il problema tu fai una cosa, la stavo facendo anch'io quindi perfetto E tra l'altro stavo trafficando qua col cellulare perciò non ti stavo neanche guardando in backstage quindi non ti vedevo tu non mi vedevi perché sei ospite quindi è proprio link neurali non c'è niente da fare si chiamano link neurali, signore e signori Siamo così noi siamo così dolcemente complicate connessi lo stavo per dire ragazzi è ordinaria amministrazione questa tra me e Giulia cioè tipo che parla una e lei dice ma io Giulio stavo dicendo la stessa cosa e poi magari io non concludo la frase lei la stava iniziando e quindi la conclude per entrare non è proprio la base sì 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 Vabbè tutto è molto giusto è tutto molto ordinario esatto sì il nostro ordinario è lo straordinario perché effettivamente il TGG ecco va bene molto bene e oggi siamo più disagio del solito anche perché ho un gatto d'eccezione scusami comunque anche certe giornate a mare lascia stare esatto oggi saranno uccelli senza zucchero signore io ve lo dico questa live sarà così io ho il gatto magico voi dovete sapere che Meo compare sempre nelle mie live quando ho giornate complesse magari a livello di salute quindi non so magari hai l'influenza eccetera quindi compare Meo così io posso fare il 60% della mia parte e il 40% lo fa lui in carisma sì infatti ne parlavamo prima dell'inizio della live io e la Bifrost e le ho detto specifica questa cosa perché poi è un attimo che poi ti criticano ti lanciano delle shitstorm sui social e dicono ah quindi tu adesso sfrutti un gatto per fare il lavoro al posto tuo e com'è? com'è sta cosa? e allora giustamente l'ha detto prima io voglio sapere a tutti che nessun gatto viene sfruttato viene adeguatamente remunerato e in nero così può avere di più quindi insomma ok? e nel dubbio ho anche Gattulu in questo momento Gattulu giusto perché comunque avendo sette vite o nove dipende dalle filosofie insomma non andrà mai in pensione perciò è inutile che versi i soldi dell'Inps il cappellino di Meo no 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 infatti però mi hanno detto che Gattulu e Gattulu sono vicini a prendere la pensione ancora qualche migliaio di anni e ci siamo sono emozionati cavoli i grandi antichi loro riescono ad andare in pensione solo i grandi antichi riescono ad andare in pensione è di recente quindi fantastico sono un po' preoccupati di quanto prendono però hanno detto boh abbiamo un po' messo da parte chissà qualche marchetta l'hanno accumulata diciamo così dai sì va bene sono stati adeguatamente sfruttati anche loro sì come ogni grande antico che si rispetti ecco mi devo mettere subito attenzione in ogni sarcasmo in corso perché abbiamo già iniziato quindi non è che non sia mai che ecco beh beh allora è proprio quella cosa lì all'unico Actulu no in sostanza cioè che cacchio non mettere i passaggi tra le ruote nella nostra storia d'amore B-Frost allora e di bastoni stasera si parla per cui ci siamo perfetto esatto appunto e comunque vince lo sport non vale adesso non vale più mi siace non vale però però è stato bellissimo e se non avete visto la scorsa live recuperatela e guardate il finale perché io e Giulia abbiamo riso per altri 15 minuti finita quella live e non riuscivamo a respirare abbiamo rischiato veramente di andarci sotto però insomma per il content esatto per il content questo è altro esattamente allora stasera parliamo di tematiche molto serie robe da proprio tipo enciclopedia tre cani e anche tre gatti cioè proprio cose importantissime che riguardano tutti noi chi più chi meno e non faccio questi consulti stasera non è il caso no allora diciamo che comunque si parlerà anche sarà veramente una live importante perché vi insegnerà anche tante cose sulla vita l'universo e tutto quanto si parlerà anche di apporto proteico di nutrizione si parla di un sacco di cose e si parla anche di come alcune stars amano passare il loro tempo libero le passioni non so cioè non c'è una linea di libri tipo Giulia Passione veterinaria così c'è diciamo che c'è gente che ama la cucina c'è chi ama inghiottire insomma sono passioni dei singoli esattamente esattamente a chi piace inghiottire elementi nutritivi e nutrizionali a chi piace leccare cose a chi gustarsele in maniera paradisiaca e afrodisiaca insomma c'è veramente di tutto in tavola stasera buon appetito e anche sotto vivendo a dire comunque dettagli si un po' ovunque c'è roba un po' ovunque stasera ecco proprio l'imbarazzo della scelta un'orgia di sapori insomma un'orgia di sapori esatto esatto proprio quello sì e chiaramente da parte nostra non ci sarà nessun giudizio perché ognuno fa il cazzo che vuole anche letteralmente ci mancherebbe altro questo non è il master chef del cazzo signori io lo volevo dire questo non sarà un episodio di master chef del cazzo no no noi li promuoviamo tutti faremo solo tantissime battute sconce battute zozze e battute in generale quindi solo battute nessun giudizio ci mancherebbe altro non lanceremo piatti stracolmi di elementi nutrizionali ecco no solo battute e gente che batte in sostanza e beve perché si vergogna di quello che appena ha detto io ho questa superpotere della tazza magica che compare ogni qual volta mi devo nascondere perché non so fare così sì però scusa tra berretto e tazza non ti si vede più in pratica hai visto perché mi hanno preso la marvel per fare il personaggino incognito quindi ho il berretto e ho fatto questa variante metodo Stanislaski e utilizzo la tazza siamo già partiti benissimo stasera vedo allora buonasera buonasera a tutti abbiamo già iniziato la live scusate allora c'è Roberta grazie Roberta per il super stickers adesso controllo un attimo che cos'è sempre che non mi salti tutto quanto perché potrebbe anche essere allora perché non vediamo scusate che ovviamente non si carica la chat perché io devo andare su youtube per vedere il super sticker cioè non è che è uno shiba che fa aia 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 quindi grazie mille Roberta tra l'altro ci hai mandato un piccolo un contributo per i momenti disagio alla fine del TG disagi TG disagi G storie assurde e quindi poi lo lo leggiamo di sicuro anzi grazie allora io vorrei solo dire una cosa devo dirla è una cosa molto importante in realtà sappiamo non so che cosa aspettarsi sentiti libera però ho un po' paura del dubbio conoscendoti potrebbe venire fuori qualsiasi cosa ok ci sono sono pronta allora noi parliamo delle robe zozze delle passioni zozze delle star però l'unica vera notizia di oggi cioè può succedere qualunque cosa nel mondo cose belle brutte ma c'è un'unica notizia davvero importante il principe Harry ha accettato di partecipare all'incoronazione di suo padre Re Carlo ma Megan resterà coi figli in America e quindi non andrà perché è anche il compleanno di uno dei loro figli il giorno dell'incoronazione di Re Carlo e quindi questa ecco almeno si sa una fonte ufficiale portavoce ufficiale di Buckingham Palace l'ha detto ok è molto importante perché comunque è una delle tante notizie del cazzo di stasera Giulia non devi bere quando io parlo ma perché allora essendo in due mentre parli io ne approfitto per bere però tu sei bastardo dentro come dicevano Aldo Giovanni e Giacomo e quindi ovviamente scelgo i momenti in cui sto per deglutire e a proposito di deglutizione cominciamo con il main event il main topic di questa serata allora lunedì sera per augurare per augurarci la buonanotte io ho mandato un link ho mandato un link alla cui è presente Giulia Bifrost che si è ritenuta molto molto interessata all'argomento e le ho scritto un tema difficile da ingoiare e lei mi ha risposto prontissima manderemo giù anche questo voi pensate vabbè ma loro si preparano poi nelle live dicono queste cose no no questa è letteralmente noi come ci comportiamo di base per noi sono live molto free queste siamo noi proprio esatto quindi i nostri messaggi sono un insieme di frasi che l'altra termina come in un film romance ma di quelli belli e soprattutto di battute una peggio dell'altra esatto ovviamente quasi tutte battute brutte ovviamente perché le battute belle le lasciamo agli altri ecco quindi ciao Mauro ciao Mauro ciao a tutti che state arrivando grazie di esserci le robe zozzerelle vi attirano pure a voi eh per dindirindero eh per dindirindero allora Cristina Aguilera che almeno per noi millennials è famosa non so per la Gen Z se è famosa Cristina Aguilera comunque i grandi successi l'ha fatti i millennial sono quelli che si siedono e fanno plavero sì ok no 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 perché io non so mai noi siamo i millennial quindi noi siamo i vecchi sì noi siamo i vecchi ok perfetto e dopo chi c'è dopo di noi? la Gen Z gli zoomer ah ok che uno dice gli zoomer perché ci vedono poco e devono ingrandire sul cellulare e fare lo zoom invece no gli zoomer perché sono velocissimi zoom zoom e dopo c'è tipo la Gen X dopo c'è il baratro credo cioè non credo ne nasca ne siano nati altri cioè no no cioè credo che si siano fermate lì le nascite ad un certo punto si sono fermate no ne nascono ancora di persone non so dire però pensavo fosse dopo ci fosse la Gen X tipo per come gli X-Men no ogni tanto c'è fuori la variante successiva io pensavo che dopo gli zoomer ci fosse liberi tutti ognuno si sceglie la lettera che vuole cioè non sottostiamo la categoria cioè magari sarebbe bellissimo ecco quindi allora zoomers perché abbiamo le zozzerie Lorenzo bravo allora bravissimo allora Cristina Ghilera per noi per la nostra generazione anche quella dopo di noi cantante famosissima che aveva iniziato con imagine it in a bottle na 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 eccetera eccetera e ci sono anche i contributi musicali che ovviamente vi faccio io versione pezzente perché altrimenti ci chiudono la live la vita e pure la partita ci chiudono quindi ci detraggono direttamente i soldi dal conto il sangue dalle vene diretti proprio così come un ciupacabra qualunque allora Cristina Ghilera è sempre stato un personaggio molto interessante diciamo oltre che vocalmente molto dotata una bellissima ragazza bellissima donna ha avuto dei punti di carriera molto molto alti poi si è un po' assestata comunque ancora ancora fa cose e una delle cose che ha fatto è stata partecipare a questo podcast condotto da una conduttrice questo podcast è successo un momento di cosa che ha fatto Cristina Ghilera un podcast un podcast condotto da una conduttrice il podcast intitolo appunto Color Daddy e in pratica in questo podcast ho capito ci sono vari ospiti ma non ci sono sempre per forza ospiti si parla spesso di robe un po' spicy di robe un po' zozzerelle ecco o ci sono le news tipo di gossip di relazioni di cose si seguo questo podcast ah si lo segue lei si in passato mi è capitato di vedere un po' di puntate perché parlano anche non so di scandali influencer che vanno lì a raccontare se stessi e la loro esistenza e quindi quando ci sono degli scandali aspetti che vadano in uno o due di questi podcast per sentire la loro versione con i popcorn così io ce l'ho nello sfondo di popcorn ce li ho sempre qua pronti che non si vedono però che adesso cadono e muoiono aspetti 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 proprio ah no ok perfetto sì che sono un po' mi sembrano un po' plasticosi però magari sono i miei gusti no no allora signori questa è performance performance è una cosa bellissima perché sono veri i popcorn che io ho attaccato cinque anni fa con la colla caldo e non si sono ancora trasformati niente quindi li uso perché ogni tanto è bello vedere la bifrost fare come scenica lei come scenica lei i meme signori cosa vuoi fare da grande il meme il meme check avere un berrettino di meo da pagare in nero check un sacco di check in questa live perfetto allora e si è presentata sulle unghie delle vagines e diciamo che è partita subito alla grande una manicure sobria e elegante sobria e elegante disimpegnata mi viene da dire perfetta per andare che so a festeggiare Pasqua dai parenti così robe del genere bellissimo e quindi già secondo me ha impostato bene la situa della serie oh son pronta son pronta ragazzi son pronta e comincia col dire questa cosa bene che noi utilizzeremo dei sinonimi birichini perché non possiamo fare le persone troppo letterali perché mica vi aspettate questo da noi vi aspettate un po' di sbrillocicanza no quindi il è divertente è divertente e conoscere il tuo corpo è davvero importante conoscerai il tuo corpo solo quando passerai prima del tempo con te stesso così saprai cosa chiedere al tuo partner e cosa ti piace questo sacro un inizio base indipendentemente da cosa andrebbe bene uguale anche se parliamo di una relazione normale tutto tutto anche non so dei tuoi gusti letterari il tuo corpo deve saperlo se è più adatto al fantasy o la fantascienza devi leggerle da soli non puoi leggerle in compagnia così poi tu dici al tuo partner mi piace di più il fantasy o la fantascienza oppure il romance mi piace ok almeno lo so ecco quindi poi però si comincia ad andare più in profondità della gola ecco allora ama la nostra Cristinona nazionale i quando i succhi esatto come possiamo dirlo diversamente credo che i mulinelli li chiameremo così allora tipo quando eh allora amo i gli stura lavandini diciamo se ne vedete cos'è cambiato adesso dico gli ipopotami così a caso però io trovo sempre la parola giusta per rompere la cosmo è un talento rompere la cosmo ogni due per tre c'è ecco ecco allora quindi ecco mi fa piacere farli bene ho avuto molti amici maschi e non si capisce come abbiamo avuto questa cosa c'è per la precisione cosa cazzo c'è esatto vabbè è un'informazione più che ci vuole dare grazie quindi ecco chinotti è la parola giusta lo usavano anche da me come slang quindi usiamo quello però è offensiva nei confronti di noi savonesi perché savona è la città del chinotto ma il chinotto come flucco sì insomma a savona piacciono i chinotti perfetto ok ok e quindi ecco quindi non lo posso usare è una questione di insomma di onestà intellettuale regionale quindi ecco allora vabbè amo fare quello e le fa pure piacere farlo e meno male penso se lo faccio contro voglia che vita di merda no ho avuto molti amici maschi sono cresciuta con loro quindi conosco non lo so forse sembra che è una compagnia molto espansiva non lo so non so vabbè quindi conosco ogni parte del corpo e le aree sensibili evidentemente con gli amici maschi giocava il dottore cioè non lo so che erano tutti pazienti e lei era il dottore ogni area cioè questo è il sottopallo te la immagini questo è il retro pallibus guarda uh esplorando il retro pallibus quante cose che impariamo cioè vabbè comunque oggi partiamo benissimo i sofficini dai diremo sofficini d'ora in poi ma dobbiamo un po' dobbiamo un po' variare perché altrimenti cioè pensavo che la Savona avessero fatto anche i sofficini ma vabbè allora fate tutto voi a Savona scusa è conosciuta pure come la città dei sofficini cioè oh questa cosa dice che non si può più dire niente dobbiamo essere politicamente corretti non si può più dire niente per rispettare i Savonesi tra l'altro esatto ho appena alzato il livello medio dell'età della chat in questo momento non possiamo più dire niente ok paolone 45 piace questo elemento esatto allora amici amici e poi ti succhiano la bici molto molto bella questo alternis molto bella la cosa non arriverà a fine live questa volta ma allora mi dovete far ricominciare ogni volta da capo perché il discorso è tutto funcatenato c'è una consecuzione temporum ragazzi se interrompo allora amo fare quelle robe lì e mi piace farli ho avuto molti amici maschi sono cresciuta con loro quindi conosco ogni parte del corpo e le aree sensibili mi diverto beh girava anche della roba buona in quella compagnia lì vedo se gli effetti ci sono nonostante gli anni quindi bene peccato che non la divida ecco appunto allora in pratica intanto mi arrivano dei link che non capisco comunque e mi diverto e lei si diverte va bene so che ad alcune donne non piace ma non lo so per me è eccitante penso che dopo aver lavorato sodo deglutire sia una buona cosa ha un sacco di proteine ok bear gris e ora scopriamo come mi nutrirò stavolta vuole un'aquila massima altro che gli insetti signori c'erano cose ben più oscure le sono passate aiuto che poi tra l'altro sono andato io sono andato perché poi me ne parlo dopo perché prima ci sono le dichiarazioni a Cristina Aguilera ho fatto le ricerche su su le capacità proteiche di quella roba lì ecco diciamo quindi del del succhetto del succhetto di palline ecco e quindi della spremuta di palline e quindi sono andata a far tutte le ricerche nutrizionali quindi vi posso portare poi tutto uno specchietto informativo ve l'ho detto che era che era una live importante questa una live utile proprio per gestirsi anche nella dieta ecco quindi allora sono una promotrice dell'ingoglio però signori ho ingoiato prima esatto perché anche la bifo è una promotrice dell'ingoglio di tisane però ecco allora esatto ilenia cosmo medicina 33 esattamente esattamente allora sono una promotrice dell'ingoglio non ho fatto quel duro lavoro per niente dovrebbe essere divertente purché tu ti senta bene e al sicuro con il tuo partner e il tuo partner si senta anche al sicuro con te a questo punto perché cioè ci sono ragazzi a cui non piace che gli si tocchino le gli appendici gli appendici esattamente altri a cui piace che gli si facciano cose brutali ci sono molti livelli diversi e lei avendo avuto tanti amici maschi essendoci cresciuta li conosce tutti i livelli diversi evidentemente io non ce l'ho e non posso parlare molto anzi amici maschi quindi ne parlerò lo stesso esattamente alla persona che mi stiamo dando 850 messaggi su whatsapp basta che mi deconcentra grazie allora capito poi per quanto riguarda le sue posizioni preferite preferite ovviamente non si è tirata indietro allora a lei piacciono molti cagnolini detto così in questo contesto rischia di andare allora non i cani gli animali attenzione no beh abbiamo in un'altra pratica non lo so io non me la sento è illegale quindi condanniamo no attenzione no si parla dei pelusci ovviamente qui no le piace l'imitazione del cagnolino eh sì esatto la performance la performance e comunque sotto la doccia ci sono stati dei bei momenti e comunque anche sotto la doccia non i cani però ci siamo capiti perché poi puzzano di cane bagnato quindi non è il caso quindi ecco poi c'è la tavola armonica dello studio sono stata curva lì un paio di volte quando hai detto la tavola armonica dello studio che cosa tu ah ok ho sempre paura ogni frase ogni parola che aggiungi può essere una catastrofe lo so io leggo però io leggo facendo le mie responsabilità l'aereo può essere divertente abbiamo sicuramente fatto molte cose di nascosto lì non posso credere che non siamo stati beccati così tante volte in così tante situazioni finito allora vi chiedo di fare un passo indietro e immaginarvi se voi siete nella stanza con questa persona che inizia a parlare random di sofficini cioè così cioè inizia a fare questo discreto sei lì che poi io cioè vorrei anche dire una cosa i sofficini hanno tutto il formaggio dentro per una persona che è intollerante al lattosio come me è veramente una cosa terribile quindi anche lì vi chiedo un po' di sensibilità nei confronti di chi sofficini non li può mangiare no? ecco eh stiamo andando verso immagini molto pericolose te lo dico lo so perché il formaggio quando fila allora dov'è? no mi devo alzare tu intrattieni il pubblico che c'ho i dati su su l'apporto proteico di quella roba lì arrivo perfetto perché Giulia si è fatto una bella ricerca del cazzo sostanzialmente e quindi adesso ci ci orinerà tutti i dati meravigliose mi ha imbarazzato anche meo gli copro gli occhi anzi le orecchie ok che cosa ha detto è che sei fantastica incredibile meravigliosa che il mondo non gira senza queste cose qua le solite ah ok va bene ah che palle però potresti cambiarla anche un po' ogni tanto eh allora esatto il formaggio previene dall'alte anche il formaggio peraltro ha le proteine quindi ecco allora siamo qui io mi son detta allora lei è così tanto sicura che contenga tutte ste proteine e allora ho digitato quante proteine ha la specialità io immaginavo fossi andata da un tipo da uno scienziato eh scusi volevo sapere esattamente avete dei cioè come degustazione allora in realtà molto meglio di così perché l'ho fatto tutto da casa perché ho digitato ho chiesto ho chiesto a google quanto apporto proteico ha eh la spremuta di cojones e mi si è aperta signori attenzione bisogna stare attenti e inghiottire in questa live perché è un attimo è un attimo che allora esattamente e mi si è aperta la pagina dedicata al succhetto di pelotas della treatcani ah pensavo della yomo per un attimo nuove prodotto yoyo fruits yoyo no ovviamente no che cosa dice si sa che è molto più denso lo yomo insomma allora mi si è aperta la pagina della Treccani dell'enciclopedia Treccani, quindi è proprio una roba da dotto, dotto una cosa seria quindi in pratica ci dice quante sostanze proteiche abbia un tot quantitativo di succhetto ecco di torbido succhetto e ho fatto tutte le proporzioni ecco e sono andata per adesso vi trovate in descrizione un link dove potrete scaricare tutti i grafici che Giulia ha fatto consigliando la dieta personalizzata come integrarlo nella dieta esatto, che tra l'altro io ero lì e ieri sera stavo facendo quella roba lì e non avevo un foglio vicino e avevo scusate il mio di doppi sensi in questa live, il problema è che io mi trattengo e poi dopo esplodo giusto per rimanere allora guarda che le devo far pagare ancora scontare ancora e comunque vince lo sport pure l'ippopotamo ecco quindi allora 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 quindi io non avevo un foglio vicino per farmi tutti i calcoli negli schemini e avevo vicino soltanto un depliant con i nuovi sconti del negozio biologico di Savona quindi io ho fatto tutti i calcoli riguardo alle proteine qua ok come voglio bio come voglio bio come voglio bio in effetti più bio di così vi viene da dire che cercami e scopri la spesa sostenibile direi che questo è super sostenibile c'è un'aggiunta puntini puntini se no attaccati al cazzo letteralmente nel reparto 4 era sull'altro foglio questo l'ho staccato era sull'altro foglio esattamente e quindi ho fatto un calcolo se consideriamo che in un chilo di uovo soduo ci sono 130 grammi di proteine e in un litro di latte ce ne sono solo 35 grammi ma in un chilo di bistecca ci sono 250 grammi di proteine per arrivare allo stesso quantitativo di proteine di un chilo di bistecca Giulia però se parlo ridi se non parlo ridi mi preparo ridi ma mi sono messa a ridere che ho detto cazzo ma mi sono messa a fare tutte queste robe super serie no ogni volta che dicevi in un chilo io eh di questo e in un litro eh di questo e continuavi a parlare di altro perché quale cazzo di misura ti ero a fuori allora allora se vogliamo ottenere dal dalla spremuta di cojones lo stesso quantitativo di grammi di proteine di un chilo di bistecca la super fiorentina ovvero di 250 grammi di proteine sapete quanti litri bisogna ingoiare di questa sostanza 500 500 aia mi viene da risponderti voglio che sia citato in calcia l'articolo aia esatto 500 no non ho calcolato anche in media quante persone servono perché lì sai dipende cioè diciamo che secondo me tutto il gruppo di amici di infanzia di cristina ghilea secondo me ci siamo lì più o meno ci siamo cosa facevano terminavano nel freezer come facevano a con ce ne facevano oh mio dio ho un'immagine tipo catena catena di spruzzaggio che ce n'è uno che fa avanti un altro avanti un altro aiuto e tutto ciò nel freezer perfetto e ghiaccioli insomma disponibile anche in varianti ghiaccioli ci vuole olio di gomito è proprio anche olio di polso mi verrebbe da dire comunque allora quindi più i padri e i nonni ci dicono c'erano gli amici e poi tutti quelli che insomma a donare sono stati in tanti ok come dice l'Avis non ci arriviamo alla fine di questa live e quindi capite che secondo me Cristina Ghilera ha detto una stronzata perché ok capisco che lei si diverta le piaccia oh va benissimo così però non è vero che contiene tutte ste proteine ragazzi perché per fare 250 grammi di proteine bisogna trangugiarne 500 litri cioè che ragazzi una piscina più che altro una piscina cioè non lo so che cacchio si ha detto una minchiata insomma si esatto esatto ha detto una minchiata esatto lo scrivete pure quindi allora quindi capite che è una grandissima stronzata tuttavia c'è gente che ci crede c'è gente che ci crede tanto che in Giappone alcuni anni fa non sono riuscita a trovare la pubblicità della lo so ma dal Giappone fanno tutte le robe strade lì non mi guardare così non è colpa mia hanno fatto tipo un ghiacciolo gelato a quella sostanza lì perché dicono che è super nutriente quindi oltre alla giocosità della cosa c'è anche un sacco di elementi nutritivi però poi l'hanno tolto dal commercio e hanno tolto pure la flam chissà come mai se ti sbagliavi dai surgelati prendevi la cosa sbagliata davi robe che non dovevi dare a persone random in casa tua non era il massimo ecco mi viene da dire tuttavia visto che contiene tanta anche vitamina C e altre sostanziosità e c'è anche cosa inizia la parola cazzo con C e beh d'altronde tutto torna tutto torna ecco allora ah sai che la vitamina C fa molto bene alla pelle quindi sono stati fatti degli esperimenti e io ho letto proprio i report settimanali di questi esperimenti in cui metà della faccia si metteva la crema nutriente e l'altra metà della faccia invece si metteva il succo di cojones e in pratica non fa per niente bene perché secca la pelle da matti e la porta pure alla disquamazione la secca talmente tanto che ho letto una di queste testimonianze che diceva se mi tirassero un cazzotto su questa metà della faccia praticamente non sentirei niente e quindi si sono super pentiti di aver fatto questo esperimento vabbè comunque l'hanno fatto coraggiosi e inconscienti per noi quindi sfatiamo anche questo mito oltre a non essere straordinariamente nutriente dal punto di vista proteico non fa neanche bene alla pelle tuttavia se volete implementare no io non sono pronta tuttavia se volete implementare la vostra skin care direttamente dalla Corea c'è a quanto pare un prodotto che può fare veramente il bene della vostra epidermide bene con la P il bene no no il bene con la B della vostra epidermide contiene un sacco di vitamina C ed è molto ringiovanente cicatrizzante eccetera eccetera ed è il succo di cojones di salmone scusi quindi quando tu dicevi di Bear Grylls che andava in giro alla ricerca di insomma di nutrienti ho pensato pensa anche tutta la natura chissà l'apporto nutrizionale del succhetto di cojones della varia natura no molto interessante quindi secondo te lui molestava gli animali mentre ero in giro se per caso chiedeva qualcosa era lì prima prima di ucciderli li molestava per me sì probabilmente sì se ormai è grise stiamo scherzando speriamo le vogliamo bene le vogliamo bene ma tanto lei non ha immagini come dire per un uomo vero le vogliamo bene le vogliamo bene esattamente quindi nel senso mi è venuta in mente che io non appena avevo sentito per la prima volta nominare l'acido ialuronico che cominciavano a mettere ed ero bambina ero una giovane bambina innocente che si faceva comprare da mamma e papà gli action man per farli accoppiare con la Barbie perché i canon le sembravano abbastanza virili in modo che ci potessero essere insomma dei rapporti sceciuali più soddisfacenti per le Barbie ovviamente ecco quindi bambina super super così fru fru in pratica io ero sicura che questo acido ialuronico basato su venisse estratto da il succhetto di palline delle oche ma delle oche e delle anatre e quindi ogni volta che io sentivo dire crema portentosa all'acido ialuronico mi immaginavo ste povere oche ste povere anatre che dovevano sottostare alle necessità della scienza e spargere via robe che poi non ha senso minimamente dal punto di vista etologico e zoologico e animalistico e non lo so ma io ero sicura che l'acido ialuronico venisse estratto da lì perfetto e da quelli infatti in quei giorni Giulia guardava di attraverso tutte le oche un po' con del compatimento perché i genitori dicevano boh chissà io in realtà non so da dove nasce questa passione per no poverine boh non lo so io li vedo nello stadio eh ma quello che fanno dopo tipo stile complottista però bambino piccolo e ti diceva c'era sti discorsi ok eh ma ha sempre avuto tanta immaginazione Giulia in effetti sai quando hai tante immaginazioni e neuroni che vanno a giorni alterni ci sono quei giorni in cui non combaccia e succedono queste cose meravigliose la base della scrittura signora esattamente la base della scrittura ma io non so perché fossi sicura che questo che che l'acido ialuronico fosse estratto da quella roba lì ma è nero certa ne ero certa tanto che tra l'altro mi era pure capitato di dirlo oh no perché c'era un mio compagnuccio che sua madre si metteva sempre tutte le robe in faccia su no cioè alto no no signori io non mi prendo responsabilità lo dico eh bambino ci dispiace per la tua mamma o forse no chissà io ero l'unica amica femmina di Cristina Aguilera ero l'unica amica femmina di Cristina Aguilera comunque in pratica si metteva sempre queste creme super fighe ultimi ritrovati antirughe eccetera bla 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 e in pratica non so come mai era uscito tra compagnucci a scuola il discorso del mia mamma mette questa crema con l'acido ialuronico come se è una cosa di cui te la tiri quando sei a scuola mia madre vabbè ok e io ho detto ma si mette quella roba lì ma che schifo ma lo sapete dove viene l'acido ialuronico ma avete delle oche per caso in giro per casa no perché è una teoria che volevo confermare Giulia l'investiga topo c'erano oche sì molto bene Giulia l'investiga oche anzi e quindi c'è questa cosa e quindi io e lui era rimasto scioccatissimo da sta cosa non si è mai più vantato che sua madre usava la crema l'acido ialuronico non si è mai più vantato l'ho rimesso al suo posto oh baby da quel momento quel bambino in una clinica così e le dicono la sera chiede di controllare che sotto il letto non ci sia la cosmo e che le dica l'acido ialuronico e da quel momento è uscito recentemente l'unico problema è che scatta proprio smatta tantissimo quando vede delle oche così a casa non capiscono ora sapete ora sapete eccoci qui oppure adatre e considera che essendo mio compagnuccio è di Savona e cioè era non so nessuno che fine abbia fatto di Savona ma è già passato Giulia ha già pensato di terminarlo e io me lo immagino nel biopic di Giulia questo così sulla sedia traumatizzata una volta parlai dell'acido ialuronico e Giulia mi disse una cosa che cambiò per sempre la mia vita quindi insomma lo vedremo presto nel biopic di Giulia questo è proprio dell'intro del primo episodio Giulia lì ho fatto l'amore aiuto però stavo dicendo che a Savona c'è il letimbro e c'è il torrente in cui c'è poca acqua però in quella poca acqua ci sono un sacco di germani reali e germane reali e quindi ci sono un sacco di anatre paperi eccetera e quindi ogni volta che passa di lì e sente fare torna indietro poverino mi spiace allora io mi immagino una cosmo che vede tipo non lo so cartoni dove ci sono le paper e fa guardate che li mungono certo vi mettete lì a fare questa spremuta non volontaria delle loro seminazioni biologiche bravi le mettete in commercio così sfruttate la natura bravi bravi quindi sì e quindi questa è Cristina Aguilera e parte anche della mia bio e so che comunque le cose della mia bio sono sempre abbastanza apprezzate e sono vere quello il problema che quindi va bene allora se abbiamo Cristina Aguilera passione in goio abbiamo altre cose che sono molto interessanti sono alcune sono decisamente più wild decisamente più fuori dagli schemi perché comunque poi Cristina Aguilera a parte per il fatto che ha avuto il candore di raccontare tutto in maniera così proprio spiattellata al massimo non è che sia niente di così mai sentito a parte coloro che hanno la passione per i piedi ma anche lì boring cioè è troppo diffuso per essere interessante la passione ai piedi Kristen Stewart la bella suon di Twilight aveva raccontato a Vogue negli anni in cui stava con Robert Pattinson tra l'altro poco prima che si scoprisse che lei l'aveva tradito con uno di più di 40 anni tra l'altro il regista è che lei era contentissima di questa cosa e che le dava un sacco di soddisfazione il fatto che nei momenti così di fichi fichi Robert Pattinson adorasse leccarle le ascelle torniamo un attimo ai sofficini quindi e questa era una cosa che era molto cioè li univa molto all'interno della coppia poi abbiamo poi capiamo ma vedi che è tutto collegato l'episodio scorso non abbiamo mica parlato del fatto che tranquillizza l'ansia e l'odore di sudore guarda Mastermind signori Mind Blow incredibile è per quello e tra l'altro in una vecchia intervista a Vogue Kristen Stewart dice che non è che le va neanche tanto che la gente si lavi tanto no? perché è così bello sentire l'odore degli altri soprattutto sentire l'odore della persona che ami e quindi c'è una commissione strana tra odori ascelle leccare e odorare che veramente io che sono una super fan del sapone mi fa dire comunque vi vogliamo bene lo stesso però siamo a disagio considera che tu dici siamo a disagio però tu non vedi uomini e donne perché non sei ancora arrivata a quella coscienza zen del trash che può fartelo apprezzare qualche trono ma niente di serio ecco così allora c'è una disperata che è lì da 15 anni una shura di più di 70 anni che si chiama Gemma Galgani che è una che ecco ecco è una a cui piace saltare addosso agli uomini no? cioè proprio in maniera non criminale ma in maniera voluttuosa e per una volta ha trovato uno che voleva saltare addosso a lei in maniera criminale ma come si le tramortisce esatto no a lei piace lo scippo insomma e la rapida mano armata non le piace le piace scippare ma con la sc esattamente esatto e e stavolta ha trovato uno che vuole saltare addosso a lei lei l'ha già liquidato ormai spoiler no in realtà è andato in onda quindi non è uno spoiler però lei era rimasta schifatissima dal fatto che mentre erano alla spa tutti e due in costume da bagno così cifu cifu lui ha tirato l'ascella così e le ha fatto una sorta di corso per come si leccano le ascelle in intimità e lei ha detto che a lei non interessava leccare l'ascella di lui e lui ha pensato evidentemente ah perché c'ho i peli e quindi quando poi l'ha invitata una sera a casa sua le ha fatto sapere che era andato dall'estetista si era fatto fare la ceretta sotto le ascelle così c'eva l'ascella c'eva l'ascella liscia pronta da leccare quindi non solo tra le star baby anche tra i poraggi comuni succedono ste cose quindi però vedi uscire di recente con qualcuno e trovarsi uno che ti dice allora per leccarsi le ascelle bro wow cosa eh devo andare mi chiamo la Cosmo devo farla live mi ero scordata Giulia cazzo chiamami devo andare io tanto ti chiamo di sicuro perché non appena lo pensi abbastanza forte io ti chiamo quindi c'erano amiche su Instagram che mi chiedevano in DM ma no ma cos'è sta roba di Robin Pattinson dimmela dimmela prima adesso che la sapete vedo che non siete più così tanto allegre come prima e ora sapete come ha fatto a avere questo record di apnea esatto esatto allora e questo era una e questa era una cosa poi c'è Johnny Depp che ha diciamo un chiamiamolo kink chiamiamolo questa passione un po' feticiosa e lo dice lui stesso è una cosa un po' strana questa può è un racconto della scella Andrea è bellissimo niente signore e fu così che dopo il racconto dell'ancella secondo me fa molto più paura ed è molto più distopico il racconto della scella sinceramente ecco giusto per dire allora Johnny Depp racconta di avere un fetish un po' strano che riguarda i vestiti delle donne io appena ho letto sta cosa ho pensato le peggio cose no ma invece no non è quella cosa che ho pensato io ma una che da bambina pensava che l'acido ialuronico fosse estratto con una siringa dal pupurupupu delle ocche capite che allora allora l'ha raccontato ed era un po' imbarazzato da questa cosa quindi probabilmente è una cosa vera e ammette di innamorarsi e farsi anche insomma dare una botta di vita dai vestiti delle donne infatti più di una volta si è ritrovato a sbirciare all'interno degli armadi delle donne ci sono dei camerini per una volta ho iniziato a sudare freddo no dai no non c'è niente di criminale in queste cose non c'è niente di criminale ho trovato anche delle cose che sfociavano del criminale quindi ho fatto finta di niente quindi non le hai trovate in sostanza no no le ho trovate purtroppo però lasciamo stare lasciamo stare e quindi però ho deciso di non selezionarle e in pratica lui dice di aver sviluppato un'abitudine quasi inconscia non è un qualcosa di conscio che lui riconosce consciamente e magari potrebbe essere anche un po' pericolosa e lui ne è un po' preoccupato il fatto che praticamente non appena entra nella casa di una donna lui sbircia subito la parte scarpe e la parte vestiti di quella donna e da lì capisce se quella donna può attrarlo sessualmente oppure anche diciamo perché io mi chiedo ma certe cose le fa cioè di base no è è no e io in questo momento sto in silenzio signori perché mi stanno venendo in mente tantissime battute tutte sconvenienti quindi sto cercando di non dirle portate pazienza mi sto autocensurando va bene ok il mio cervello in questo momento l'elicottero allora quindi abbiamo detto Cristina Aguilera abbiamo detto Robert Pattinson più Kristen Stewart perché non riesco a far andare avanti la sedia per Dindirindino abbiamo detto Johnny Depp e adesso posso dirvi o Matthew McConaughey o Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence allora promette meglio lei beh lei lei ha materiale da stand up comedian diciamocelo perché lei veramente materiale da stand up comedian sono appena oggi sono incappata in un tiktok dove ammetteva che c'era non so se è vero questo era il tiktok che diceva tutto di un'intervista dove diceva che effettivamente c'era stato qualcosa tra lei e l'ex marito di Miley Cyrus non so se lo sapeva se lo sapete ma all'epoca si negava tutto ed era uscita questa intervista che poi hanno tagliato quindi non so se effettivamente e io ero lì tipo come osi però ci si capisco è stata questa cosa ma ok cioè beh allora se lui se lui se a lui va bene un pensiero ce lo fai se lo ritrovi davanti perché cioè è un quantitativo di tantaggine che è anche e anche diciamo per la scienza è proprio per la scienza infatti non devi prenderci il caffè il giorno dopo insomma no esattamente c'è proprio un qualcosa un esperimento a sfondo scientifico perché comunque di esemplari così non è che se ne trovano tanti molti in Australia a quanto pare perché ce ne sono un sacco di quegli esemplari lì così però cioè sinceramente non è che poi dici ah io mi sono privata all'interno del mio del mio protocollo di ricerca di questa esperienza qua no quindi io sono molto d'accordo con Jennifer se è successo davvero brava Jennifer allora battute ovviamente allora in pratica Jennifer Lawrence ha una cosa strana per le spugne Spongebob nasconditi per favore non ascoltarla questa era un pupazzo di Spongebob che è terrorizzato ce l'ho a Savona l'ho lasciato a Savona perché avrei fatto questa live poi sai comunque al mare quindi mica lo porto qua a Milano che si secca in due secondi quindi allora ha un qualcosa per le spugne che lei definisce un fetish però non è che riesce a spiegare molto bene in cosa consista però ci racconta alcune sue reazioni alle spugne e soprattutto il fatto che sia naufragata una sua relazione a causa delle spugne madonna che latin lover Spongebob non l'avrei mai pensato cioè cosa nuova l'hanno scritto su di lui quindi scusa cioè Spongebob è un uomo che cucina è in effetti ha vinto tanto è scusa e pulisce pure perché è una spugna esattamente super pulito che lo so che per Kristen Stewart non andrebbe tanto bene qualcuno di così però infatti si sta parlando di Jerry Serlores cioè quindi si dice infatti che che la Stewart cercasse la propria anima gemella non in discoteca ma direttamente sui servizi pubblici ma che schifo in pieno luglio in pieno luglio in bagni in autobus in metro che schifo un amore a prima sdiffata insomma mamma mia in questa situazione è meglio qualcos'altro sinceramente allora comunque allora Jennifer Lawrence racconta che una delle che la sua reazione principale di fronte alle spugne è questa si è resa conto di svegliarsi molto prima la mattina e con un sacco di energie in più quando sa di avere in casa una spugna nuova ok sto traducendo in pratica le piacciono un sacco le spugne non si capisce bene se siano spugne tipo la luffa quella da cosarsi sul corpo così oppure le spugne anche per lavare i piatti credo che sia le spugne in generale perché appunto com'è che è naufragata la sua lunga relazione con Nicholas Holt che si erano conosciuti sul set di X-Men ho capito per un attimo ho pensato dio no 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 in pratica lui non le strizzava mai bene le spugne mai e una volta erano in cucina ho preso su una spugna ed era tutta bagnata e piena di sapone e allora io gliel'ho fatta vedere così gli ho detto vedi questa è la tipologia di cosa che mi fa pensare che la nostra relazione non potrà mai funzionare e quindi il fatto che lui non strizzasse bene le spugne e che le lasciasse sempre così umide gocciolanti e piene di sapone ha fatto sì che alla lunga lei si sia stufata e abbia deciso di passare altrove beh niente si va avanti thank you next un colpo di spugna e si procede direi ma ultimo ma non ultimo ma adesso sono già 57 minuti di live quindi vabbè ultimo ma ultimo e poi ci abbiamo le cagate random abbiamo perché queste erano cagate strutturate ovviamente le cagate random è la parte del TGG disagio quindi cagate random allora metti me cona hey me cona you me cona ha lui ma c'è una riga oddio c'è una bronzatura c'è una riga nella bronzatura c'è una bronzatura nella riga ma quale riga esattamente vabbè che cazzo è successo non lo so me ne rendo conto adesso allora in pratica Matthew McCona ecco lui si con calma tranquilla lui ha un un fetish per il cibo e ha detto una volta anche lui a Vogue perché quanto pare le stronzate si dicono sempre a Vogue non lo so avete delle stronzate da dire ma Vogue ho qualche stronzato da dire mi intervisti ok vabbè io non pensavo fosse un giornale con tante cazzate però va bene a volte quando gusto e assaporo un cibo che amo davvero davvero tanto sento proprio come un brivido lungo la mia spina dorsale e mi devo fermare un attimo e prendermi una pausa beh sono contenta che gli piacciono i cibi freddi lui sente proprio un pizzicorio sente un brivido che è quello prima dell'estasi sostanzialmente o il cagotto dipende o il cagotto dipende da lui si chiama torsì al culo però va bene o il cagotto io normalmente sento la pace che fa che tuona prima che mi avvisa Betty o sei vecchio attenzione perché è un attimo avere la tosse al culo poi e quindi sì evidentemente c'è a chi quando mangia qualcosa di freddo troppo velocemente gli va la testa e chi gli va la spina dorsale che ti devo dire e quindi anche Matthew McConaughey hey Matthew hey e in pratica c'ha il suo fetish con il cibo che pensate invitarlo a ristorante in Italia che si mangia così bene lui mangia qualcosa ogni boccone fa con il camminare che va tutto a posto lui si si posso defibrillatore se c'è io lo dico mangia un altro boccone fa caldo ora fa freddo cioè capisci pensa a quanto cazzo ci mette a valgiare un pasto lui se ogni boccone di qualcosa che gli piace si mette a fare hey Matthew McConaughey lo registrano per fargli fare rumorista che almeno tirano su qualche altro soldo guarda io dovrei fare la rumorista il fatto è che non sono disciplinata nei rumori che mi vengono un po' come mi vengono così si fanno portare dall'ispirazione hai avuto un buon momento bolognese te lo dico tipo Harry ti presento Sally ogni boccone esatto un buon boccone di bolognese dicendo che però si gli americani si sa che hanno un sacco di cultura culinaria culi sono molto d'accordo poi il resto insomma procede allora mi viene inviata da un punto di vista credo giornalistico questa immagine qua sul cellulare e io la condividerò con voi giusto per testimoniare quindi tra l'altro ci sono negozi super rispettabili e super what-up che vendono che so il liquore di chinotto il chinotto al maraschino la marmellata di chinotto gli amaretti al chinotto signori se siete fuori da savona savonesi non avvicinatevi a chiedere un chinotto a qualcuno perché in emilia è una cosa diversa è un po' pericoloso lo dico mi sento di fare questa informazione sociale non fatelo ci pensi un savonese ma emilia dice ma c'è una mia voglia di un chinotto e passone gli dice ok vorrei oggi ho proprio voglia di un chinotto e l'altra persona va vai caro vai vai bro e non era cristina ghilera quindi lì si spiegherebbe già un po' di più effettivamente senti vuoi diventare anche tu un mio amico di infanzia e crescere assieme a me wink wink allora anzi blink blink quindi questi sono i fetish un po' strani delle starts prego 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 questo era bellissimo è stato un momento epico l'abbiamo mandato giù signore possiamo andare a questo punto si si l'abbiamo anche quasi digerito direi a questo punto quindi prego allora mi state scrivendo che in tutta Italia in pratica si dice così per dindirindina è solo da noi e noi ci vantiamo e da voi ci sono ottimi chinotti insomma ho sempre pensato che Savona fosse una città l'insegna del disagio ma questa volta è inconfuttabile come cosa vedi là dal punto di vista contrario tutta Italia utilizza il chinotto per prendere per il culo Savona ma non lo sapevano è quello il fatto adesso lo sanno però tutta Italia e continueranno con maggior gusto esattamente gnam gnam anzi slurp slurp quindi allora momento cazzate random del TGG di Zagigi si stavolta la Cosmo visto che io ero indisposta ha detto ci penso io a cercare le notizie allucinanti e io mi sono vista arrivare tutta una serie di screenshot che perché oggi sarà la rubrica del perché o com'è che le chiamate cagatine random cazzate random o cagate random sì sì chiamale come vuoi vabbè dobbiamo fare tipo una PNG da mettere da qualche parte con cagatine random esatto aspetta metto il banner io nel frattempo ho scusate sono andata a recuperare il telefono leggo vado random a questo punto prego prego allora gatto randaggio attacca cane poliziotto due agenti intervengono ma il felino mette K.O. anche loro cioè voi vi rendete conto che ci sono delle barzellette che in realtà sono spaccati di vita quotidiana spaccati soprattutto esatto concordo concordo prego ho messo ho messo il banner ho messo il banner ok quindi immaginatevi questo gatto che subito dopo tra l'altro il fatto l'hanno preso per girare Kung Fu Panda 200 esatto esatto e lui è la figlia di di Tigra esatto bravissima è la figlia illegittima di Tigra che è uscita è uscita così però è Wattah tanto quanto la madre però in un corpo molto piccolo quindi sì diciamo che Wattah proprio Wattah esatto Wattah beh bellissimo per un gatto ma ci sta anche tra i loro nomi devo dire Wattah suona quasi orientale quindi dici ok ma infatti il mio Wattah è un una volontà di rendere continuamente omaggio alle figate Wattah dei film orientali Wattah 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 quindi proprio sì prego quindi è perfetta invece c'è una cosa che mi devi spiegare tu quella sulla rapina perché quella sulla rapina io ho avuto un momento dove ho detto eh aspetta perché perché la Cosmo ha mandato delle cose alcune erano tagliate e io sono rimasta nella suspense ti dico quella della rapina è bellissimo però noi siamo contrari alle rapine ovviamente e agli zii che ti riconoscono ovviamente sì allora adesso prendo l'articolo di Catania Today allora rapina un rifornimento di benzina in fila c'è anche lo zio che lo saluta riconosciuto e arrestato allora uè salvatore uè zio to post to post e si è fermato lì per fare due chiacchiere oh ci vediamo a Pasqua alla fine sto rapinando ma tutto a posto casa bene bene dai si si sente poi non lo so forse sono dentro vedi tu ciao lo conosci no mai visto mai visto non so chi sia allora in pratica c'è stato pure addirittura una pistola utilizzata per minacciare un dipendente facendosi consegnare l'incasso di tipo 9000 euro dicendo se chiami i carabinieri ti ammazziamo la famiglia e in pratica però nel mentre prima della rapina un cittadino presenta il distributore probabilmente ignaro di cosa stesse per accadere saluta uno degli indagati qualche istante prima del ride riconoscendolo a bordo dello scooter è stato poi identificato nello zio di insomma questo tizio elemento che rafforza le prova a suo carico e quindi quando dici che i tuoi parenti sono coglioni ecco dopo per rimanere in tema di coglioni o volendo anche parenti serpenti aiuto ho dato una fedata alla stampante che ho sotto la scrivania non chiedete perché no ma anch'io ho la stampante non avete tutti la stampante sotto la scrivania non è così bella da esporla la tieni dove sta allora questa un'altra cosa che mi tocca dal profondo che è quella della tipa è perché allora dovete sapere che quando si parla di tasse la cosmo non importa che tassa è anche se fosse una tassa sulle marmotte e pensa eh beh eh beh a posto a posto la cosmo è molto fiscale quindi ecco prego prego se vuole legga lei holly fans Rebecca scarica il seno rifatto dalle tasse non dalle tette dalle tasse mi raccomando dalle tasse è una spesa aziendale quanto ha guadagnato con l'investimento sommerso dalle critiche dei follower ha risposto a tono elencando i motivi per cui ha pienamente diritto a un rimborso e ha reso pubblici pure i suoi guadagni e beh oh da notare che comunque questa Rebecca non può essere in partita IVA regime forfettario perché se sei forfettario non ti puoi scaricare le spese perciò deve essere per forza regime semplificato o regime ordinario quindi adesso lo sappiamo e quindi vuol dire che guadagna più di 85.000 euro all'anno per passare al semplificato ecco perché altrimenti al di sotto sta il forfettario sono quelle cose che ogni tanto ti svegli dicendo ma only fans non era una brutta idea che cacchio cioè ma uffi ma ti pare ti puoi rifare le tette e scaricarle ma non è il sogno della vita cioè le persone non si rifanno le tette perché magari non sono non si possono poi dedurre i costi no è per quello che tutti non se cioè io perché non mi sono mai rifatta le tette proprio per quello no non perché no ecco assolutamente ci dicono che in chat ha sicuramente offerto due buone motivazioni vabbè assolutamente sì esattamente concordo prego e poi abbiamo la meraviglia delle meraviglie Roma i carabinieri cioè non è che ce l'abbiamo con i carabinieri specifichiamolo no no queste notizie cioè purtroppo i carabinieri sfondano la porta per lo sfratto ma si sbagliano e si ritrovano in casa del questore queste sono quelle classiche figure di merda che tipo non passi mai no che fanno il giro e diventano aneddoto però per i tuoi figli e nipoti non per te per te rimane una colpa allora Carmine Belfiore 62 anni è il questore di Roma ieri un ufficiale giudiziario accompagnato dal fabbro ha fatto irruzione a casa sua sfondando la porta con loro in caso di problemi di sicurezza c'erano i carabinieri che però sono rimasti all'esterno del palazzo Belfiore che è in città solo da qualche mese non aveva fatto nulla di male perché descritto così sembra che se ci fosse stato ancora qualche mese l'avrebbe fatto ma come scritto l'articolo dai cioè non ha fatto niente di male solo perché in città da qualche mese cioè per ora cioè vabbè ma che è sta roba ci dissociamo può comunque può comunque divertire cioè nel senso ancora tutta la vita davanti per delinquere non dobbiamo farlo fare subito insomma c'è tempo c'è tempo Giulia ti pare che sei lì da qualche mese già commetti delle infrazioni dei crimini no aspetti un po' giustamente ecco non c'è chiaramente ci dissociavo però perché l'articolista a quanto pare si dissocia dalle lingue italiane quindi lo facciamo anche noi ci dissociamo da chi non ha ancora delinquere va bene chi non è andato a delinquere esatto bravo ma prima aspettate qualche mese l'ufficiale giudiziario racconta l'edizione romana di Repubblica ha semplicemente sbagliato porta doveva infatti notificare uno spratto nel condominio di Ostia dove abita anche Belfiore la proprietaria di casa era una studentessa che voleva cacciare un inquilino che occupava la casa della nonna senza pagare l'affitto l'ufficiale giudiziario è andato dritto verso un indirizzo poi è intervenuto il fabbro ma una volta dentro la studentessa si è resa conto dell'errore non è questa casa di mia nonna dove siamo? l'abitazione era proprio quella di Belfiore e sul posto è arrivata anche una pattuglia della polizia crociata la gazzella dei carabinieri ferma all'esterno dell'edificio dopo un certo imbarazzo l'incidente è rientrato e il questore ha chiuso l'equivoco cambiando la serratura e che dire signori sì tutto è bene quel che non finisce in tragedia in pratica esattamente e c'è l'ultima questa è di una bellezza rara eh lo so perché io mi sono andata allora ve la raccontiamo completa perché è quella che chiude in bellezza sposa un fantasma la notte di halloween ora vuole il divorzio e cerca un esorcista non mi offre mai niente pago sempre tutto io la storia più reale dico ghosting che abbiate mai visto dimenticate il finché morte non ci separe l'unico ostacolo all'amore eterno è la galanteria beh più che altro che non ti paghi cena eccetera infatti che cazzo questa è la lezione che possiamo imparare dalla storia d'amore di rocker brocard la cantante originaria dell'oxfordshire che il 31 ottobre 2022 quindi proprio fresca di matrimonio proprio la notte di halloween ha scelto di sposare il suo fidanzato eduardo eduardo con la doppia v vorrei far notare eduardo che è lo spirito di un combattente della prima guerra mondiale dopo però si sono frequentati per cinque mesi cioè comunque non è che hanno fatto le cose affrettate ma hanno fatto bene per lui cinque mesi sono uno sbadiglio uno scoreggio comunque si considera che comunque vedi prima di delinquere hanno fatto passare un po' di mesi giusto quest'ora è infatti prima di un'associazione a delinquere esattamente esattamente quindi eduardo non deve essere certo un fantasma qualsiasi dato che al loro matrimonio erano presente Marilyn Monroe Elvis e addirittura lo spirito di re Enrico VIII si dice si vocifera che ci fosse anche il coniglio pasquale ma nessuno l'ha visto quindi non si può dire questo l'ha aggiunto la Bifrost non è l'articolo del fatto quotidiano questa è aggiunta by Julia Bifrost io l'ho sentito anche del coniglio pasquale quindi non lo so ma no ma no perché cosa fai esce troppo presto ti pare che il 31 ottobre esce il coniglio pasquale troppo presto ma era in vacanza per quello è potuto andare al matrimonio hai ragione che scema dopo diventa troppo vicino al lavoro insomma anche lui deve fare meno finta di lavorare scusa c'hai ragione c'hai ragione la cerimonia è stata infatti celebrata nel segno dell'inclusività permettendo di partecipare sia i vivi che i morti le donne fuori tuttavia le donne vive perché c'era Marilyn le donne vive fuori fuori solo le donne morte ok grazie solo quelli che possono avere un'opinione rimangono nella esatto ah meno male che c'è ironia qui sotto perché sennò è terribile però it's funny because it's true lo so che molti penseranno a questa cosa come una cosa vera questo sarà un problema vabbè ma molti già la pensano come una cosa vera esatto quindi che ci vuoi fare che ci vuoi fare d'altra parte abbiamo iniziato questa rubrica dicendo noi non vogliamo essere donne essere prese sul serio e io ti avevo risposto non corriamo questo rischio esatto quindi tuttavia nonostante gli splendidi momenti la loro storia d'amore non era destinata a durare per sempre e la cantautrice inglese prima era cantante adesso è cantautrice perché nel frattempo evidentemente ha sviluppato una certa sensibilità artistica dopo aver sposato un fantasma no è che hai l'upgrade no con il matrimonio poi avanti di carriera sì ora hai qualcosa da raccontare beh la neuro forse però ok va bene che sul proprio profilo instagram conta 182.000 follower la faccia del fantasma ha raccontato recentemente ai microfoni di daily star di essere alla ricerca di un esorcista per sbarazzarsi del marito che le starebbe rendendo la vita un incubo cioè signori quando quando tu ti stai divorziando e vai addirittura da un esorcista io penso che le cose siano molto serie anche secondo me guarda sento di essere arrivata alla fine del mio matrimonio con eduardo perché mi viene in mente lady gaga eduardo roberto don't call my name don't call my name eduardo aleandro sento che per me è una sconfitta ma non credo sia possibile essere sposati con un fantasma ma brava wow che realizzazione vedete dopo sposati la gente matura e diventa da cantante a cantautrice pure non so parole forti ma chi ha scritto questo articolo parole forti quelle di brocard che soltanto sei mesi fa abbiamo visto felicemente emozionata mentre stringeva la mano del suo amato davanti all'altare ma di una messa nera immagino perché non so chi può sposare vabbè ma non basta essere nati nel diciannovesimo secolo per essere galantuomini e parrebbe che eduardo abbia la pece in tasca ma che cazzo l'hanno tradotto letterale dall'inglese secondo me perché la pece in tasca no scusate io e la Cosmo ogni tanto ci scimmiamo di queste cose delle traduzioni sì scusate è un nostro problema abbiate pazienza lui ha un'influenza oscura su di me e questo non va bene perciò vorrei sbarazzarmene il luna di miele poi non ha mai pagato nulla perché ovviamente non possiede una carta di credito eduardo eduardo da quando serve una carta di credito per pagare io non l'ho avuta fino a qualche anno fa e comunque ho pagato lo stesso cioè scusa e meo che ha tutti i soldi in nero lui paga lo stesso e non c'era la carta di credito no ce li ha tutti qua perché lui si fa questo cosino di doro più grande ogni volta così ce li ha tutti dietro capisci fra un po' avrà la cervicale griscia però però avrà tutto perché ricordiamoci che la mossa distintiva di meo nel gioco dei pokemon è giorno di paga quindi e mi raccomando questo è un capitale pro capite esattamente scema comunque questo articolo era del fatto quotidiano qua c'è il video di instagram no perché io prima l'ho mandato in play ma perché non funzioni eh ma no ma aspetta vediamo se adesso funziona ok forse si si sente? voi lo sentite? si sono così belli insieme guardate che bei partner sono bellissimi sono super romantici lui è abbagliante cioè quasi trasparente cosa ha fatto? le ha dato una botta? lei si è spostata così oh cos'è violento? hai visto? che lei ha lungato la mano per toccarlo e poi ha fatto così come se gli avessi dato una sperma su la mano eh vedi anche lei parla piano adesso mi chiede le promesse mi viene un po' da commuovermi perché mi commuavo sempre i matrimoni guarda di nuovo amico giuro che sono plasmiche da lei ok? oh pro pro tizio lo vogliamo ancora aspetta l'ha detto lei l'ha detto lei che lo vuole ma che è sta cosa? per me qua non c'è consenso io lo dico questa è una molestezia ectoplasmica anche secondo me qua c'è qualcosa che puzza di cadavere tra l'altro c'è qualcosa che puzza qui perché avete visto lui chiaramente non voleva sposarla perché avete visto che l'allontanava lei faceva sempre così ogni volta che cercava di toccarlo e tra l'altro non gli è stato neanche dato il tempo di rispondere al fantasma ok? e si vedeva che chiaramente non era d'accordo basta forzare basta Lorenzo ha ragione abbiamo finalmente visto Marc Altagirone eccolo finalmente finalmente aiuto sono sposati alla fine c'è stato un lieto fine però Marc Altagirone credo che ce l'avesse la carta di credito no? no se era un fantasma no perché non puoi però eduardo se hai se hai problemi e non sai come ne comunicarlo mettiti una maglietta mettiti una maglietta e sappiamo che c'è un problema perché non facciamo già una maglietta se vediamo una maglietta che va in giro o è vento o eduardo che chiede aiuto comunque nel dubbio c'è un problema anche se non vediamo la maglietta a naso proprio a naso quindi questo è stato il TGG di Zagigi e questo era il momento delle cagatine random dopo il main topic c'è stato il momento cagatine random quindi niente abbiamo già tenuto in ostaggio come la tizia col il sequestro di persone in una live esattamente e voi non siete fantasmi quindi cioè nel senso potete d'altronde siamo qui da un po' di mesi e quindi possiamo già cominciare a delinquere quindi possiamo fare il sequestro di persone effettivamente non è troppo presto secondo me no 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 vero appunto quindi per far sì che sia anche agile da recuperare in un secondo momento terminiamo qui questa splendida live grazie di essere stati con noi grazie a Giulia Bifrost di cui trovate il link del canale youtube qua in descrizione al zolito mi raccomando seguitela seguitela sui social non nella vita reale perché altrimenti vi lancia un esercito di ectoplasmi e altro che esorcisti ok va bene e l'importante è crederci l'importante è crederci ma stavolta non riuscirai a farmi ridere lo sapevi che l'avevo voglia lo sapevo che stavi che stavi per sganciarne una però io vi vorrei ricordare a proposito di disagio che sta per uscire o è uscito comunque è nei cinema sta per arrivare un fantastico film con Russell Crowe che si intitola l'esorcista del papa in cui lui interpreta padre Amor comunque un famosissimo esorcista e oggi ho sentito su Spotify perché io non ho Spotify a pagamento ho Spotify gratis con le pubblicità perché sono ligure e quindi altro che chi notti qui ecco e in pratica ho sentito il trailer ho ascoltato il trailer ed è stato sufficiente c'è un tizio che chiede al personaggio di Russell Crowe come mai hai fatto quell'esorcismo così pericoloso in data 8 aprile così e Russell Crowe dice con la voce di Luca Ward io penso a Luca Ward mentre diceva queste cose gli risponde beh sai perché me l'ha chiesto il mio capo lo sai no chi è il papa e quindi sono rimasta sono rimasta guarda cioè ho visto ho visto il paradiso dopo questa cosa di mio capolavoro dell'anno quindi ciao basta altro che Barbie Oppenheimer abbiamo l'esorcista del papa quindi lo vedremo va bene va bene l'importante è crederci come ho detto prima direi che riassumiamo perfettamente allora se avete da valdarci oh no aspetta il racconto il raccontino della scella no non mi raccontino della scella no dai assolutamente avevo avevo promesso eccola qua Roberta Roberta per quanto riguarda le robe disagio ci ha raccontato che un giorno come un altro apro la mail dell'ufficio e in sintesi parafrasando la richiesta era la seguente mi sono trasferito da poco nella vostra ridente località in un appartamento presso il fiume siccome il rumore dell'acqua che scorre mi disturba il sonno mica si potrebbe silenziare il corso d'acqua certo verrà eliminato per lei verrà proprio preso di peso e portato altrove dove può disturbare il sonno di altri plebei esattamente di altri poveri plebei poveri con la y e l'h finale comunque non si preoccupi signore o signora che ha scritto questa mail alla nostra amica Roberta ci sta pensando sul riscaldamento globale ad asciugare quel torrente fra poco non scorrerà più non si preoccupi guardi io volevo farle sapere che se ha bisogno di silenziamento al momento dentro il fiume il rumore non si sente allora immaginatevi io e Giulia che rispondiamo ai problemi delle persone ok nel dubbio vada dentro il fiume guardi ci hanno fatto un film di trentordici ore la via dell'acqua quindi lo sa che cosa fare lei prende quella via prosegue sempre dritto in fondo a destra vada dritto avanti fino al mattino ok molto bene grazie di essere stati con noi tanti baci tanti abbracci se ci volete mandare cose mandatele alla mia mail cosmopoliti chiocciola gmail.com se l'ho detto giusto wow incredibile non l'ho sbagliato wow neuroni 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 nananana ti garantisco che non ha preso niente sappiate lei è proprio così ok ciao buona serata tanti baci ciao 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 gente buonanotte